... ... ... Dirk, grazie a Dio! Devi inseglierlo subito, non c'è più tempo. Calma, Tuck, inseguire chi? Roach! Roach! Lo conosci? Viaggiava con Lione e Alvarez, ma mi sono fidata di lui. Oh, Cristo, Tuck, hai sbagliato! Già, ha preso le nostre medicine ed è scappato a nord. L'abbiamo perso nella zona di Merion Foros. Ok, vedo se riesco a rintracciarlo. Perfetto. 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 Andrà tutto bene? Ehi, non è sicuro qui nell'incubo, ma io conosco un accampamento. Un campo? Dove? Dov'è? Dimmelo. Ci vado. Peaceful Lake, Mark Copeland, è sicuro lì. Ero spacciato per la miseria. Grazie di cuore. Grazie di cuore. Davvero. Grazie. 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 Correrò poi. Io sono Deacon. Da quelle parti mi conoscono. Ok, corri e resta alla larga dalle strade. Grazie a tutti. Ok, vediamo. Che succede qui? È la pista giusta. Tucker, l'ho trovato e a quanto pare stava aspettando qualcuno. Dick, non farlo fuggire. Lo voglio vivo. Ma che merda, Tucker, vivo? Ho scoperto che manca il fratto. Deve dirci dove l'hanno ascolto. Ok, farò il possibile. Dai, Rage, dove credi di andare? Sono ancora qui, pezzo di merda. Ok, ho capito. Devo usare le cattive. Rage, rallenta. Voglio parlarvi. Sì. Tucker ti manda per questo. Per parlare. Ma certo, Cristo. Se avessi voluto ucciderti, saresti già morto. Caccia il culo. So come hai ridotto l'Ion e Alvarez. Non te ne scappare! No! Non te ne scappare! Sì. 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 Oh, sei mio, bastardo! Ehi, Roach, come andiamo? Visto? Ti ho detto che non volevo ucciderti. Dick, no! Io non... io non ho fatto niente. No, Tucker la racconta diversa. Mi sa che quando Lione e Alvarez sono scappati con le medicine si sono scordati di spartirle con te. E così? Dick, no! No, 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 spiegami cosa stai pensando, voglio capire. Tu hai rubato quel che restava mentre la vecchia era distratta. Dick, non ho niente addosso, ok? Perquisissimi! No, non è compito mio. A quello penserà Al-Kai, sta sicuro. Hey, Doc, l'ho preso. Segnate le coordinate di Dio ad Al-Kai e di mandare... Non so cosa hai fatto a Leon. Ok, Dick, ti prego, Dick... È ancora vivo. Ti sopplico! E ha le mie medicine. Dick, no! Ti prego, ti prego! Ti andavamo in cello, Riccordi! Tu e io eravamo amici!